Un saluto a tutti dalla redazione di Rossini TV e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Vallefoglia Magazine, il settimanale di approfondimento della città di Vallefoglia. Prima di iniziare, come di consueto, vi ricordo i nostri contatti alle quali potete inviare le vostre segnalazioni. Qua in sovraimpressione trovate il numero di WhatsApp oppure la mail di redazione Vallefoglia-rossinitv.it. Vi ricordo che potete inviarci foto, video, messaggi audio per quanto riguarda WhatsApp oppure semplici messaggi di testo. Ma iniziamo subito con la prima notizia. Nelle settimane precedenti avevamo parlato delle numerose segnalazioni avvenute da parte dei cittadini di Vallefoglia sulle tema dei rifiuti abbandonati. Su questo tema è intervenuta fortemente l'amministrazione comunale che, proprio in questi giorni, ha sollecitato tutte le autorità competenti e gli ispettori di Marche Multiservizi ad una intensificazione dei controlli. Vediamo il servizio. Noi puntiamo molto sull'educazione. Parlavamo anche stamattina con l'assessore all'ambiente. Pensiamo, insomma, che la gente debba essere attenta a curare l'ambiente, il paesaggio. Abbiamo chiesto a Marche Multiservizi di potenziare il centro di raccolta dove tutto quello che uno ha può portare lì gratuitamente. Quindi ci sembra assurdo vedere divani, calcinacci, bottiglie di plastica. Sembra una cosa assurda, impossibile, intollerabile e quindi abbiamo detto a chi deve fare i controlli di fare tutti i controlli. Ma se ognuno di noi rispetta le regole non c'è bisogno nemmeno di fare i controlli. Quindi facciamo un appello molto accorato a tutti i cittadini che si può e si deve e si dovrebbe portare tutto al centro di raccolta a Montecchio, nell'area vicino al depuratore dove c'è, diciamo, il centro raccolto di Marche Multiservizi. Tra l'altro c'è anche uno scambio di cose positive che ti danno. Io, per esempio, porto la carta e mi danno la possibilità di avere dei benefici, delle piante, delle cose che servono alle persone. E poi, insomma, spero di non vedere più da nessuna parte, tanto più nelle zone come le zone coldelce, le zone culinari, che sono di una bellezza paesaggistica straordinaria, ma anche nelle zone industriali, perché dobbiamo mandare gli operai a raccogliere le robe perché qualche fesso butta le cose dove non deve buttare. Ecco, ci appelliamo alla comunità. La gente sta attenta, deve stare sempre più attenta, come fanno per il covid, che devo dire, dobbiamo anche ringraziare, perché abbiamo avuto un bel calo di gente infettata, perché vuol dire che hanno cominciato a capire che tocco stare molto attenti. Per esempio, noi abbiamo lasciato le aree ciclopedonali, i cimiteri, i parchi, i giardini, abbiamo tolto le limitazioni, però questo non vuol dire che tocco stare attenti, tocca rispettare le regole e per l'ambiente è una ragione in più, perché è un segno anche di maleducazione, però siccome siamo ottimisti, fiduciosi, speriamo che la gente porti nei bidoni dell'immondizia, c'è la raccolta differenziata, siamo oltre il 70%, una buona percentuale di raccolta differenziata, è impeccato trovare queste cose che danno una pessima immagine, tanto più che ci abbiamo verso la stagione estiva, quindi vengono anche i turisti, le persone da fuori, trovano una città ben ordinata, ben pulita, merito dei cittadini se tutto questo avviene. Io ringrazio a nome dell'amministrazione tutti quelli che si comportano correttamente, che sono stragrandissima maggioranza, anche quelli che hanno fatto qualche cosa che non va bene, non lo facciano più insomma. E una notizia importante, relativa anche al momento storico in cui ci troviamo, è quella che riguarda le nuove nascite nella città di Vallefoglia. L'amministrazione comunale infatti ha potuto constatare che nelle primo trimestre relativo all'anno 2021 sono ben 20 nuovi nati registrati nelle comune, 11 maschi e 9 femmine per l'esattezza. Un dato che conferma sostanzialmente i dati relativi all'anno 2020, dove complessivamente le nuove nascite erano state pari a 101 neonati. L'amministrazione ha sottolineato come questo dato conferma che sono ancora numerose le nuove coppie di giovani che hanno deciso di stabilire la propria residenza a Vallefoglia, dove oltre a trovare lavoro e occupazione nelle numerose aziende che operano nel territorio comunale, hanno a disposizione tanti servizi rivolti ai più piccoli, quali quello dell'asilo nido, educativi e scolastici, biblioteche oltre ad impianti sportivi. E in occasione della giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, fissate le 2 aprile di ogni anno, il Comune di Montellabate, assieme alla cooperazione di Banca di Pesaro, ha inaugurato il nuovo gioco blu presso il giardino comunale di Borgo Marcellino. Un bellissimo gesto di solidarietà, come ci hanno raccontati i protagonisti intervenuti all'inaugurazione. Si vuole essere un modo per dare visibilità e consapevolezza su chi ha questi problemi, che non è una malattia l'autismo, ma è un modo di essere diverso dagli altri, come un po' tutti lo siamo. In questo periodo di Covid, dove la normalità, abbiamo capito cosa vuol dire non averla, si può comprendere meglio quale può essere il problema per queste persone che sono a loro modo diverse da tutte le altre, perché non esiste una cura specifica per questa situazione, che non è appunto una malattia, ma è un modo di essere diverso dagli altri. Quindi per la consapevolezza di queste persone che si trovano a disagio, perché tendenzialmente vengono emarginate dalle persone che si ritengono normali, è un modo per far ricordare appunto le problematiche delle famiglie che tutti i giorni devono affrontare queste situazioni e per ricordarci che tutti diversamente siamo diversi uno dagli altri, ma diversamente uguali e quindi per ricordare che queste persone hanno bisogno di più attenzione dagli altri rispetto a tutte le altre persone che non hanno di questi problemi. E qui c'è la giocosità delle gioco, un trono per far sentire il bambino appunto anche al di sopra. Sì esatto, abbiamo scelto questo tipo di gioco, il blu è il colore che rappresenta l'autismo perché dà sicurezza che è la cosa che ricerca un bambino che ha queste problematiche e il trono vuole essere appunto un momento per mettere al centro dell'attenzione e queste persone che ci possano salire, ma tutti si possono salire perché tutti siamo sullo stesso piano, ma è un modo per ricordare che anche queste persone hanno bisogno di maggiore attenzione. Abbiamo voluto prendere questa iniziativa in questa occasione tramite la nostra filiale che abbiamo nel comune di Montelabate per fare presente la nostra vicinanza a queste problematiche e anche come banca del territorio perché essendo l'unica banca locale rimasta sul territorio sia di Montelabate e anche della città di Pesaro, Vallefoglia pure, qui siamo proprio confinanti con Vallefoglia, vogliamo sempre essere più presenti e in ambito sociale portare il nostro contributo, però è una banca sanissima, è una banca che nel corso degli anni ha avuto sempre ottimi risultati, anche quest'anno abbiamo un bilancio molto soddisfacente, quindi tante iniziative a favore delle aziende del territorio, a favore delle famiglie del territorio e quindi anche queste iniziative che vanno in ambito sociale e per far sì che la nostra presenza sia sempre più radicata. Un altro momento importante per la nostra banca ma soprattutto su un argomento molto importante che è l'autismo che sta colpendo purtroppo anche di tante persone e quindi ci vuole una grande sensibilità di tutta la comunità e la banca locale non può assolutamente esimersi da fare a contribuire a far sì che questi progetti vengano portati a termine nel miglior modo possibile, da gente sempre molto affidabile e ad oggi quando facciamo anche la selezione dei progetti guardiamo soprattutto da chi provengono, che è una cosa fondamentale. Sì, sicuramente l'iniziativa è rivolta a bambini che possono essere estragnati appunto dal contesto sociale, una nobile iniziativa a loro favore e non so poi come si svilupperà la tematica del gioco magari proprio facendoli sentire, visto che è un trono, facendoli sentire magari dei re all'interno del contesto sociale. E per il secondo anno consecutivo il giorno di Pasqua sarà celebrato in una situazione di pandemia anche se qualche differenza rispetto all'anno passato ci sarà per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni religiose. Infatti quest'anno le messe saranno regolarmente svolte nel rispetto di tutte le limitazioni vigenti. In questa intervista il parroco della chiesa di Montecchio, Don Marco Di Giorgio, ci parla di come si è organizzata la sua parrocchia in occasione di questa festività. Ecco cerchiamo di guardare il bicchiere mezzo pieno, diciamo che quest'anno a differenza dell'anno scorso possiamo celebrare i riti della settimana santa anche se non tutti tipo la via Crucis non si può fare però possiamo celebrare in chiesa. La Domenica delle Palme è stata frequentatissima più che a Natale direi e i riti della settimana santa adesso si svolgono e sono un segno di speranza per i credenti e penso anche per i non credenti perché comunque la Pasqua è sempre una di quelle feste, basti pensare alla corsa, a far benedire le uova. È una festa che coinvolge tutti perché alla fine è la festa della speranza in Gesù che risorge e la festa appunto ne abbiamo tanto bisogno della Resurrezione. Come si sta comportando la gente durante le domeniche, frequenta la Messa? Dunque moltissima gente, molta gente almeno a quello che mi dicono, stanno ancora a casa per paura, gli anziani specialmente per paura del contagio, giustamente anche seguendo in televisione però tutti mi dicono ma io lo guardo la Messa in televisione, vale lo stesso? Detto a Tiburossini questa cosa, certo che vale per chi non può venire. Adesso credo che ci sia un po' più di apertura però appunto l'ho visto la Domenica delle Palme e nella affluenza di questi giorni. La chiesa si sta organizzando come sempre, cercando di rispettare le regole, il distanziamento, il numero massimo, ma a Montecchia abbiamo una chiesa molto grande quindi ci sta tanta gente davvero, con le mascherine, con le mani disinfettate all'ingresso, distinguendo l'uscita, l'entrata e l'uscita, insomma tutte le regole che si devono osservare. Però mi sembra che ci sia una maggiore partecipazione, speriamo che continui a crescere anche con l'estinguersi, speriamo molto vicino della pandemia. In questo segnale di speranza un suo messaggio per una buona Pasqua? Sì, dirsi buona Pasqua non vuol solo dire passa una buona giornata, non mangiare troppi capelletti o troppo agnello, dirsi buona Pasqua vuol dire dire buona resurrezione, resurrezione alla vita eterna ma anche resurrezione della speranza, di guardare avanti, di guardare un futuro per i nostri ragazzi, per i nostri giovani ma anche per tutti noi e la nostra speranza è fondata su Gesù che vince la morte e che dà un senso a tutta la nostra vita, anche a quelle cose che apparentemente questo senso non ce l'hanno. Pasqua è una luce che si accende nella vita del mondo e chi è stato a Gerusalemme e al Santo Sepolcro lo sa benissimo, c'è una speranza per il mondo perché c'è una vita che continua, non tanto un'altra vita ma una vita eterna già nascosta nella vita che viviamo noi, si tratta di tirarla fuori, tiriamo fuori tutta la luce possibile che portiamo nel cuore perché il momento è molto buio e c'è tanto bisogno di luce. E l'Unione dei Comuni Pian del Brusco l'ha comunicato proprio in questi giorni di avere ricevuto la disponibilità da parte dell'Università degli Studi Carlo Bo di Urbino e dell'Università di Ferrara ad una fattiva collaborazione per la redazione di un piano d'azione per l'energia sostenibile e l'eclima congiunto da sottoporre all'ufficio patto dei sindaci di Bruxelles. La collaborazione con le due università è fondamentale per la definizione delle strategie future e di sviluppo dell'intero territorio dell'Unione dei Comuni che attraverso la messa in campo di strumenti capaci di anticipare possibili scenari futuri consente alle amministrazioni di raggiungere obiettivi di sostenibilità e di resilienza in maniera integrata nonché di ottimizzare le risorse e di intercettare finanziamenti nell'interesse dell'intera comunità. E sempre a proposito di lavori pubblici e di nuove opere l'ufficio tecnico delle Comune di Vallefoglia ha predisposti in questi giorni il nuovo piano delle asfaltature per l'anno 2021. L'importo dei lavori pare a 610 mila euro e interamente a carico del bilancio comunale prevede un rifacimento dei tappeti stradali e della segnaletica orizzontale delle diverse strade del territorio. Vediamo il servizio. Sì, noi presenteremo fra non molto anche il logo e il nuovo portale turistico con costanza in questi sei anni abbiamo messo parecchie risorse per mettere in maggior sicurezza la viabilità, per sistemare meglio le strade, per evitare che ci siano incidenti e per abbellire anche il territorio. Insomma, penso alla zona di Coldelce che è bellissima. Abbiamo fatto già alcuni tratti importanti di asfaltature. Ieri mattino ho parlato anche con il sindaco di Urbino che anche loro entro lo Stato dovrebbero fare l'asfaltatura, oppure via Brasco dove ci stanno decine di famiglie. Insomma, e anche e soprattutto nelle zone più centrali. Penso a Montecchio, penso a Bottega in via della Libertà. Insomma, 600 mila euro di ulteriori asfalti con cadenza annuale, 400-500 mila euro all'anno. Credo che siamo una delle poche città che, non dico, ha finito di asfaltare quasi tutte le strade. Penso a quella bellissima paesaggistica che va da Montefabri al Museo della Messadria a Pontevecchio. Insomma, ecco, stiamo guardando poi con l'assessore ai lavori pubblici, diciamo, tutti i tratti più ammalorati, dandoci anche dei criteri, perché si fanno quelli che hanno più necessità negli anni, le aree che vanno ai cimiteri. Insomma, ecco, una sistemazione che è una sistemazione, diciamo, di sicurezza, ma anche dal punto di vista ambientale e paesaggistico, insomma, che consente di avere, penso, a quelli che vanno in bicicletta, ai cicloturisti, a tutti quelli che vengono qua e che si complementano, insomma, perché abbiamo fatto e stiamo facendo un buon lavoro. Ecco, penso che quando vengono a respirare l'aria buona nelle colline di Sant'Angelo, di Colbordolo, di Montefabri, tutta quell'area che va verso Pontevecchio, insomma, vanno con sicurezza, perché come si vede, vedevo le immagini di Roma, le buche producono anche danni e anche molto pericolosi. Qui da noi, non dico che non ci sarà più manco una buca, ma quasi. Un investimento importante, come ha detto lei da parte delle Comune. Quando inizieranno i primi lavori? Ma intanto ci vogliono anche le condizioni climatiche. Noi a breve approveremo il progetto, diciamo, esecutivo e poi l'appalto. Quindi prima della stagione estiva, prima dell'estate, saranno finiti tutti i lavori. E ora concludiamo parlando di sport. Dopo l'interruzione della sua stagione a causa della pandemia, che ha contagiato sei atleti e due membri dello staff, oltre ad aver costretto la squadra a rinunciare alla semifinale di Coppa Italia, la Megabox Vallefoglie è tornata a lavorare in palestra dopo ben tre settimane. Le ragazze di Fabio Bonafede non sono certo alle meglio e due di loro non ci sono ancora negativizzate. Ciò nonostante, la squadra biancoverda ha ripreso il lavoro in vista della ripresa della polla e promozione. Il primo appuntamento è previsto per mercoledì 7 aprile, alle ore 18, alle palle a Dionigi di Montecchio contro la Green Warriors Sassuolo, squadra che batte le tigri nell'ultima partita disputata prima della pausa forzata per motivi sanitari. Da lì in poi per la Megabox sarà un vero tour de force, con la squadra impegnata in ebbene sette incontri in meno di 22 giorni. E siamo giunti alla conclusione di questa nuova edizione delle Vallefoglie Magazine. Io vi ringrazio per essere stati con noi qua su Rossini TV, vi faccio gli auguri per una buona e serena Pasqua e vi rinnovo l'appuntamento a venerdì prossimo, il 9 di aprile. Buona serata a tutti! Grazie a tutti!